Il Partito Democratico funziona così, è all'opposto dei 5 Stelle, non si può offendere ma si può dissentire. 5 Stelle si può mandare a quel paese la gente ma se dissenti viene espulso. Qui è esattamente il contrario, se si fa con civiltà si può anche dissentire e nessuno viene espulso. Il PIT a mio avviso nella sua complessità è stato un piano ambizioso. A Sesto forse non la pensano come lei, ma questa è una... Tra dissentire e sabotare c'è la sua differenza. Una differenza semantica che Sara Biagiotti forse potrebbe spiegare molto bene da questo punto di vista. È stata fatta fuori per questo motivo, democraticamente parlando. Va davanti, era una mia riflessione. No, 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 ma si può anche parlare degli amici di Sesto.